In Turchia Erdogan dopo un ventennio di mandato vince ancora le elezioni e si appresta a governare per i prossimi cinque anni, superando così il mandato più lungo della storia della Turchia, addirittura superando il fondatore dello Stato turco Ataturk. E questa non è una buona notizia per l'Europa, perché Erdogan si è contraddistinto per la violazione dei diritti umani, per un irrigidimento delle posizioni nei confronti proprio dell'Europa e di tutti gli altri partner internazionali. La Lega d'altronde lo ha sempre detto, Erdogan e la Turchia non sono alleati affidabili dell'Europa e su questo prendiamo atto delle posizioni degli altri partiti, degli altri gruppi europei che si sono resi conto di questa distanza con Erdogan e la Turchia. Quello che noi dobbiamo fare è puntare sulle nostre radici, i nostri valori, dialogando a testa alta anche con le altre nazioni come la Turchia, senza però arrischiarci in progetti di inclusione dell'Europa rispetto alla Turchia, perché la Turchia è altra cosa rispetto a noi. E quello che dobbiamo fare è vigilare affinché il rispetto dei diritti umani avvenga in Turchia e soprattutto le manie espansionistiche di Erdogan siano messe a bade a tacere.